La Corsa dei Diritti, questo lo slogan scelto per l'edizione numero 38 di ViviCittà, consueta festa di sport per migliaia di partecipanti, che ha seguito per noi Cristina Caruso. Dal 1984 ViviCittà è legata alla promozione di ogni tipo di diritto, da quello ovviamente dell'accesso alla pratica sportiva, a quello della sostenibilità ambientale, a quello contro ogni discriminazione e pregiudizio e ovviamente quello della pace. Trentottesima edizione di ViviCittà, la corsa più grande del mondo, una manifestazione podistica internazionale che abbina il lato competitivo della 10 km a un grande spazio dato alla camminata ludico-motoria ricreativa aperta a tutti. Sono state infatti tantissime le famiglie cittadini che in 34 città italiane ed europee hanno deciso di passare alcune ore assieme in movimento all'aria aperta, con un'unica classifica compensata. La Corsa dei Diritti, questo è il sottotitolo scelto quest'anno, diritto alla pace, alla tutela dell'ambiente e a vivere una vita più dignitosa per le persone costrette nelle carceri. Continuerà questo nostro impegno, l'impegno è quello di rafforzare tutte le nostre attività e diciamo di far così per diventare sempre più protagonisti cittadini e cittadini, ovviamente non dimenticandoci il valore dello sport come prevenzione e promozione della salute.